Un cordiale benvenuto a tutti, ci ritroviamo qui come di consueto all'inizio dell'anno pastorale, al diciannovesimo appuntamento della settimana biblica diocesana, quest'anno dedicato, come ben sapete, al libro di Giobbe. Approfitto per salutare il Vescovo Francesco qui presente tra noi, Vicario, Don Maurizio, tutti i confratelli preti qui presenti, le religiose e i religiosi delle diverse congregazioni, tutti i laici provenienti dalle comunità, dai movimenti, catechisti, gli accompagnatori dei gruppi di ascolto della parola, i studenti dell'Istituto di Scienze Religiose e anche tutti coloro che, come cittadini della nostra città qui presenti, sono interessati alla Bibbia come libro in grado di approfondire e arricchire anche i nostri valori umani e i valori della nostra cultura. A nome del servizio di apostolato biblico che rappresento, a nome anche dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, dell'Azione Cattolica Diocesana e del Centro Culturale Paolo VI, che sostengono e organizzano l'iniziativa della settimana biblica, do ufficialmente inizio alla settimana biblica di quest'anno. Credo che è bello iniziare facendoci anche un bel applauso tutti insieme. Quest'anno la settimana è dedicata al libro di Giobbe, libro che si trova nel canone biblico veterotestamentario, libro di straordinaria importanza non solo per la teologia e la vita delle chiese, ma anche per la storia religiosa e culturale di tutta l'umanità. Un libro lungo, di 42 capitoli, tutto in poesia salvo una cornice in prosa, che presenta un ebraico di alto livello, talora anche di difficile traduzione, senza dubbio un libro di grande raffinatezza artistica e letteraria. E' un libro che parla dell'uomo, che si confronta con il mistero del male e della sofferenza, un libro che trova tante immagini per rappresentare questo mistero. E anche noi questa sera vi abbiamo offerto un'immagine entrando in sala Manzoni, così per entrare dentro un po' alla parola di Dio che mediteremo in questi giorni, l'immagine che avete visto salendo le scale, l'immagine offerta dalla pittrice riminese Liliana Quadrelli, un'immagine di migranti in viaggio con le loro valigie. Questa immagine racconta i jobbe di ieri e di oggi, collegandosi all'esperienza di chi ha scelto di partire vendendo tutto quello che aveva e affrontando il rischio di perdere tutto in viaggi pericolosi e in nazioni lontane. Come i nostri antenati italiani, fino a poco tempo fa, o come gli attuali migranti africani. Ci si chiede che senso abbia che tante persone, tante donne e tanti bambini siano incarcerati in Libia o siano morti in mare. Risuona così ancora oggi la domanda di Jobbe. E' una domanda che si estende a ciascuno di noi, migrante della vita, che di fronte alle sofferenze e alle fatiche della vita impara a portarsi dietro il bagaglio necessario, liberandosi del superfluo. E per chi è credente, questo bagaglio necessario non può non comprendere il vero ascolto della parola. perché, come dice il Vangelo di oggi, a chi ha sarà dato, a chi non ha o chi non ha, sarà tolto anche quello che crede di avere. Il bagaglio necessario, appunto, è ciò che non ci sarà mai tolto. E allora ci disponiamo all'ascolto della parola in queste serate, facendo un affondo su diversi testi lungo il corpo poetico del libro di Jobbe. Questa sera ci soffermeremo in particolare su Jobbe III, l'innocente alla prova del male. domani con la professoressa Laila Lucci faremo un po' il confronto tra la sapienza di Jobbe e quella degli amici, capitoli 4-27. Mercoledì entreremo dentro alla risposta che Dio dà a Jobbe e agli amici, capitoli 38-41. E giovedì concluderemo con un affondo più generale su Jobbe nella società di oggi, con il professor Luigino Bruni. Ecco, vorrei anche soffermarmi un pochino sul materiale che trovate in cartellina e che è abbastanza ricco. Oltre alla brochure della settimana biblica, dove c'è la presentazione di tutte le serate, e oltre agli abstract che vi serviranno per seguire gli interventi dei relatori delle serate, trovate anzitutto la lettera del Vescovo, intitolata Perché avete paura. Lettera per l'anno pastorale 2017, 2018, con un percorso al suo interno di alcuni incontri, otto incontri, sul Vangelo di Marco, rivolto particolarmente alle parrocchie e zone pastorale, per attivare percorsi di formazione spirituale, rivolti ad adulti, per favorire la maturazione di vocazioni alla ministerialità laicale, ma anche per incontri di taglio più missionario, in parrocchio, nelle case, o per la preghiera personale. Vi ricordo anche che dal sito della settimana biblica, potete trovare alcuni materiali per la preghiera personale, o per la conduzione di gruppi di ascolto, sul Vangelo della Domenica. Vi trovate qui dove c'è la dicitura schede di lettura popolare. Cliccando sopra entrate nel sito dove si trovano questi materiali. Nella cartellina trovate anche una brochure con la presentazione delle attività dell'Istituto di Scienze Religiose, con i corsi di laurea triennale e di laurea magistrale. Trovate anche una brochure con il percorso di teologia pastorale, che quest'anno viene attivato per la prima volta per coloro che intendono fare un cammino di formazione alla ministerialità e che mutua quattro corsi dell'Istituto, tutti concentrati al giovedì sera, dalle 18.50 alle 22.25. Trovate anche un'altra brochure, la brochure dell'Associazione Biblica Italiana, che patrocina il nostro evento quest'anno, al patrocino dell'Associazione Biblica Italiana, il cui presidente è Don Luca, che questa sera ascolteremo. Le tante occasioni formative che l'Associazione Biblica Italiana offre sul territorio italiano sono preziose per chi desidera approfondire la Bibbia e magari non ha la possibilità di seguire un corso intero all'Istituto di Scienze Religiose. Questa sera avete anche la possibilità di diventare soci aggregati dell'Associazione, magari facendo anche l'abbonamento alla rivista Parole di Vita, una rivista che ogni anno presenta percorsi molto interessanti, approfonditi ma nello stesso tempo semplici, non tecnici, per entrare nei diversi libri della Bibbia o nelle tematiche teologiche principali della Bibbia e che possono essere utili sia per il proprio interesse personale sia anche per organizzare incontri e preparare incontri biblici nelle proprie comunità. Tra i vari fogli che ci sono nella cartellina, oltre agli abstract, trovate anche una bibliografia essenziale sul libro di Giobbe che è stata preparata gentilmente da Don Luca. Trovate anche una bibliografia ulteriore di testi che sono presenti tutti nel banchetto libri preparato dalla Libreria Santa Colomba. Si trovano alcune novità editoriali che sono reperibili oggi sul mercato. Sono evidenziati in giallo anche due libri che sono anche segnalati nella bibliografia di Don Luca, il commentario al libro di Giobbe di Ravasi e l'introduzione al Pentateuco Sapienziale Proverbi, Giobbe, Coelet, Siracide e Sapienza di Don Luca. Quindi potete trovare questi testi insieme ad altri nel banchetto libri preparato dalla Libreria Santa Colomba. Trovate anche qualche copia di una rivista, la rivista Tracce, che al suo interno ha in quella copia un articolo di sintesi sul libro di Giobbe. Trovate anche nella cartellina una copia omaggio del Ponte, il nostro settimanale diocesano, con un invito all'abbonamento per chi non l'avesse ancora fatto. Il Ponte è da sempre importante per conoscere la vita della nostra Chiesa riminese e anche per condividere un discernimento vigile e attento sulla storia e gli eventi del nostro territorio. Avviso anche che queste puntate della nostra settimana biblica, queste serate, saranno in diretta su Icaro TV e verranno poi riprogrammate per ulteriori appuntamenti televisivi tutti martedì, a partire da martedì 3 ottobre alle 21.10 sul canale 91 di Icaro TV. Ulteriore materiale utile della settimana biblica lo troverete sul sito www.settimanabiblica.it dove verranno pubblicati di volta in volta gli audio delle serate che potrete riascoltarvi con comodo la sera prima di andare a dormire per addormentarvi meglio. Penso di aver detto quasi tutto, forse qualcosa l'ho dimenticato ma poi magari lo riprendiamo dopo. Per introdurre l'ascolto della parola vogliamo utilizzare l'arte. Ogni sera ci lasciamo guidare da un'iconografia artistica del libro di Giobbe. Questa sera il professore Alessandro Giovanardi che invito qui al mio posto ci introdurrà al libro di Giobbe tramite una immagine che ha preparato per noi. Grazie. Per illustrare l'idea dell'innocente davanti alla prova del male ho selezionato un dipinto del XVII secolo, del Seicento che ha la firma del suo autore, Georges de Latour Fechit. Lo ha fatto Georges de Latour, pittore francese che noi inseriamo nell'ambiente culturale del caravaggismo europeo anche se probabilmente, a parte l'annunciazione che nel 1609 si trovava a Nancy può darsi che durante tutta la sua vita gli non abbia neanche visto un'opera di caravaggio piuttosto ha visto gli altri caravaggisti quelli che venivano dal mondo fiammingo e che avevano una peculiare attenzione per le cose comuni della vita e tutta la sua pittura è al contempo delicatissima quotidiana, quasi un'anticipazione di Vermeer per alcuni aspetti e nello stesso tempo teologicamente profondissima per quello che riguarda il tema della luce e ho scelto naturalmente l'illustrazione di alcuni versetti di Giobbe colpito dalla lebra Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere allora sua moglie disse rimani ancor fermo nella tua integrità benedici Dio e muori in altre interpretazioni vi è maledici Dio e muori ma comunque quel benedice ha un significato sarcastico ma egli le rispose come parlerebbe una stolta tu hai parlato se da Dio accettiamo il bene perché non dovremmo accettare il male e questa è la splendida immagine non so se si vede forse opportuno abbassare un po' le luci mi si era detto che l'avrebbero fatto perché altrimenti il mio parlare sarebbe un po' vano se non si vedono le immagini una piccola nota Georges Dumesnil della Tour non nasce nobile come il suo cognome parebbe suggerire acquista la nobiltà viene da una famiglia di panettieri e non era quello che si dice consonante con la sua pittura avido, terribilmente avido terribilmente attaccato ai privilegi nobiliari che si era in qualche maniera acquisito noi però sappiamo che la bravura artistica e anche la finezza teologica alcune volte supera i difetti della persona stessa come se ci fossero dei particolari momenti di grazia di illuminazione una saggezza nel lasciarsi guidare nelle cose che non sempre si riescono a testimoniare nella vita da coloro che invece sanno testimoniarle anche nel mondo orientale abbiamo gli iconografi veri e propri e abbiamo gli isografi gli artigiani che copiano lo stesso e lo fanno in una maniera fedele se sono persone piesante ancora meglio ma anche nel loro artigianato almeno in quel momento sanno essere umili duttili alla parola ecco la moglie di Giobbe si abbassa sul marito qui ha la pietà di un seggio non è abbandonato sulle ceneri o sullo sterco come dicono in altre traduzioni ha i cocci cioè il vaso rotto neanche un vaso come posso dire è vero è logico che ci voglia un coccio per in qualche maniera grattarsi qualcosa di ruvido però anche l'idea di un oggetto neppure l'oggetto più banale più comune che si usa in cucina è intatto ha perso veramente tutto e quest'uomo nudo il volto fisso in quello della moglie contrasta con l'abito della moglie che invece è un abito alto borghese signorile raffinatissimo la moglie si muove con un gesto di particolare eleganza ha una candela nelle proprie mani guardate non sarebbe opportuno tenere una candela in quella maniera se non ci si vuole bruciare o come posso dire uschionare con le cadute di cera quindi è un gesto veramente puramente simbolico non realistico anche se l'atmosfera è tale e vi è soprattutto quel nerofumo di Caravaggio ecco quella atmosfera puramente scura che non ci dà un paesaggio non ci dà un luogo una prospettiva uno spazio in cui noi possiamo in qualche maniera trovarci per portare attenzione soprattutto all'uomo all'essere umano e all'incontro delle persone e allo scambio di verità che avviene tra queste due persone ho cercato di isolare sia il volto della moglie distaccato si vede che è in qualche maniera irridente senza quasi preoccupazione forse anche infastidita dalla pazienza del marito nei confronti delle prove a cui viene sottoposto per volontà di Dio e invece il suo volto intenerito la rimprovera ma sembra appunto rimproverarla con affetto quasi nelle sue mani giunte che sono mani di sofferente vi è quasi una supplica ad andare oltre il suo sarcastico interrogare la luce in De La Tour quelle bellissime candele spesso stanno funzionano proprio per illuminare la verità per portare la verità illuminano il volto di Cristo nel presepe illuminano gesti di carità assoluta attenzione questo è l'unico dipinto che De La Tour dedica all'Antico Testamento in questo caso sembra che il discorso venga a ribaltarsi la luce che porta la moglie non è la luce della grazia è la luce della ragione e il guardare in maniera disincantata la situazione del marito coperto di piaghe nudo perché neppure può sopportare l'abito sul corpo piagato e anche il limite di quella luce Giobbe sta nell'oscurità ma nell'oscurità sta il mistero in questo caso e sta anche la tenerezza di quel volto che noi vediamo fra la luce e la tenebra guardate guardate che importanza questa candela ora lo dirò meglio domani parlando di Vittorio Carpaccio però dico solamente questo quando i pittori leggono i testi della scrittura e non lo leggono non li leggono del tutto indipendentemente hanno dei committenti e guardate neanche i committenti sono liberi entrambi si rifanno a una tradizione codificata che nello stile nei modi nelle interpretazioni nelle variazioni sul tema possono cambiare ma vi è qualcosa di vincolante di forte e certo non sono dei moderni filologi non spezzettano il libro di Giobbe lo prendono per intero al di là delle stratificazioni che nella storia si sono formate anche quando dovessero avere per peculiare cultura l'avvertenza che quel libro in realtà ha avuto tante mani ha avuto tante interpretazioni racconta storie diversissime il pittore lo prende come un'unica catena dove la parola di Dio si è manifestata e lo accetta appunto nella sua integrità e cosa allora rappresenta il Giobbe di Delatur il Giobbe di Delatur mi sarebbe piaciuto portare qualche confronto ma non potevo come posso dire dilungarmi è il filosofo molte volte voi vedrete proprio come il Giobbe messo alla prova Seneca rappresentato nel 600 alla stessa maniera dove la povertà è volontaria e non solo il filosofo le stesse figure hanno gli asceti coloro che praticano l'esercizio della vita nello spirito e del distacco dalle cose del mondo quasi che il filosofo e l'asceta si auto impongono quello che a Giobbe è accaduto per disgrazia è una grande caduta è un'interpretazione ce lo fa capire il dipinto che non è pensata per una chiesa è pensata però per un religioso non è una palla d'altare davanti a cui vengono accese candele o si pratica il sacrificio divino no no è un dipinto da camera sicuramente per una persona di fede probabilmente per una persona che aveva assunto contratto i voti sacri e che contempla e medita immaginate che vi è anche un alcunché di musicale quel nero sfumato di fondo ha la stessa forza del canto fermo nella chiesa antica il gregoriano la cultura bizantina ci danno l'idea di questa musica di fondo questa cantilenare nella recitazione questo cantare in una maniera come posso dire a tappeto nel senso più bello della tessitura e noi sentiamo proprio davanti a questi dipinti questa sorta di movimento immobile e questo interrogare di uno sguardo che è quello della ragione quello della moglie quello dell'esterno e la misericordia viene da colui che è stato punito misteriosamente colui che è caduto nella disgrazia prova pietà e guarda colui che interroga come appunto una figura distolto d'insipiente qualcuno a cui manca veramente qualcosa che è la sapienza la saggezza Giobbe è tra i libri sapienziali non a caso per chiudere bisogna appunto immaginare che questo isolare un solo tema dell'antico testamento nella sua produzione sarà stato pure un caso di committenza peculiare però rende quel dipinto assolutamente importante e fondamentale all'interno della riflessione di De Latour quando guarderete tutti gli altri dipinti vedrete che al contrario la candela rappresenta proprio la luce la grazia l'illuminarsi di un volto finalmente la speranza che cova all'interno delle tenebre la luce che splende nelle tenebre qui c'è qualcosa di diverso in quella figura la sapienza la tenerezza divina la misericordia sta proprio in quell'uomo che è chiuso nelle tenebre quella luce che appena appena lo sfiora dall'alto verso il basso e che inciampa non la sua lunga barba prima di potergli illuminare un po' il volto è ancora appunto racchiusa proprio come quel libro forse assieme ai primi capitoli di Genesi assieme a Coelet uno dei libri più terribili e misteriosi dell'Antico Testamento perché pone le domande senza risposta dell'origine del male del perché del male dell'insofferenza della sofferenza del giusto vi è un'atmosfera manzoniana a guardare questo dipinto e però dentro invece viene un interrogarsi direi proprio Dostoievskiano radicale e terribile ma questi dipinti meravigliosi del Seicento servono proprio a questo cioè a porre queste interrogazioni queste domande queste contraddizioni nel modo più suadente la stessa pittura e qui chiudo davvero Olio su tela è una pittura carnale sensuale attraente molto diversa dalla pittura sulla tavola dalla pittura da fresco è una pittura che consuona con la musica da organo così dice Pavel Fieriensky secondo me ha ragione anche se non gli voglio dare il tono negativo che gli dà qui al contrario ci troviamo esattamente nel tentativo di portarci in questo spazio non spazio guardate semplicità di figure che rispondono al concilio di Trento in maniera perfetta nessuna prospettiva divagante come nel rinascimento nessun cielo inquieto misterioso e indecifrabile come nel manierismo complessissimo fin troppo ricco grande semplicità eppure quello spazio resta uno spazio metafisico ha qualcosa a che vedere con l'oro delle icone uno spaesamento rispetto allo spazio reale ecco qui la sensualità dell'olio ci porta queste figure divine vicine a noi ma ci fa entrare in una dimensione di riflessione diversa una profonda interiorizzazione dell'immagine e ci aiuta anche a dire questo noi siamo in questa occasione chiamati a guardare un'immagine con grande attenzione cosa che dico noi contemporanei ormai siamo disabituati a fare e non riusciamo né più a guardare un'icona stando in ginocchio neanche a contemplare una semplice laicissima incisione in tutti i suoi dettagli e invece il meditare appunto un veicolo per ascoltare sempre la parola perché ci rende duttili apre il nostro dito e tira via le nebbie il fodero spazza via le nebbie davanti agli occhi grazie bene ora abbiamo desiderio di ascoltare Don Luca Mazzinghi che è professore ordinario alla pontificia università gregoriana di Roma insegna anche al pontificio istituto biblico ogni anno alcuni corsi dal 2010 è presidente dell'associazione biblica italiana e è stato poi rieletto nel 2014 attualmente presiede l'associazione è anche stato membro del comitato per la revisione della nuova bibbia CEI dal 96 al 2001 e chiedendogli appunto quali altri incarichi dovevo elencare mi ha chiesto di dire che è parroco parroco di Bivigliano nel Mugello ecco ricordo che al termine della conferenza ci sarà anche la possibilità di un breve dibattito si possono fare dei bigliettini con i foglietti che avete nella cartellina qualcuno passerà col cestino a raccoglierli e potete per i più informatizzati anche scrivere un commento al post della pasina facebook di Apostolato Biblico il post appunto della settimana chi è più coraggioso può anche intervenire al microfono che passerà direttamente nell'assemblea ora possiamo seguire la conferenza di Don Luca nella cartellina avete anche l'abstract potete seguirlo e iniziamo con l'ascolto della parola capitolo 3 del libro di Giobbe dal libro di Giobbe allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno prese a dire perisca il giorno in cui nacqui è la notte in cui si disse è stato concepito un maschio quel giorno divenga tenebra e non lo ricerchi Dio dall'alto né brilli mai su di esso la luce lo ridivendichino la tenebra e l'ombra della morte gli si stenda sopra una nube e lo renda spaventoso l'oscurarsi del giorno quella notte se la prende il buio non si aggiunga i giorni dell'anno non entri nel conto dei mesi ecco quella notte sia sterile e non entri in essa il suono di gioia la maledicano quelli che maledicono il giorno che sono pronti a evocare le vietan si oscurino le stelle della sua alba aspetti la luce e non venga ne veda le palpreve dell'aurora poiché non mi chiuse il varco del grembo materno e non nascose la miseria ai miei occhi perché non sono morto fin dalla nascita e non sono ospirato appena uscito dal grembo perché due ginocchia mi hanno accolto e due segni mi allattarono così ora giacerei e avrei pace dormirei e troverei riposo con i re e i governanti della terra che ricostruiscono per sé le rovine e con i principi che posseggono oro e riempiono le case d'argento oppure come aborto nascosto più non sarei o come i bambini che non hanno visto la luce là i malvagi cessano di agitarsi e chi è sfidito trova riposo anche i prigionieri hanno la pace non odono più la voce delle guardie il piccolo e il grande la sono uguali e lo schiavo è libero dai suoi padroni perché dare la luce a un infelice e la vita che ha amarezza nel cuore a quelli che aspettano la morte non viene che la cercano più di un tesoro che godono fino a esultare e gioiscano quando trovano una tomba a un uomo la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte perché al posto del pane viene la mia sofferenza e si riversa come acqua il mio grido perché ciò che temevo mi è sopraggiunto quello che mi spaventava è venuto su di me non ho tranquillità non ho tregua non ho riposo ed è venuto il tormento ecco buonasera un saluto a tutti grazie di essere venuti specialmente a chi domani lavora e deve alzarsi presto a chi ha i figli o gli anziani a casa che magari deve sistemare o ha già sistemato prima di venire qua e quindi ha già fatto uno sforzo è un quarto alle dieci e quindi è mio compito Giobbe è interessante di suo però il sonno può avere il sopravvento non per via di Giobbe ma per via di chi parla per cui dovrei cercare per cui dovrei cercare di farvi star svegli per altri 40 minuti almeno come dico agli studenti se dormite non è un dramma perché tanto non date noia ecco il dramma il dramma sono quando cominciano a suonare i telefoni quello sì quello è un dramma allora detto questo questo è il primo incontro che fate su questo libro Giobbe che appartiene a quella letteratura che ci è stato detto si chiama la letteratura sapienziale l'idea di fondo è il tema della sapienza che a scanso d'equivoci non ha niente a che vedere con il sapere come noi occidentali pensiamo ma ha piuttosto a che fare con il saper vivere il saperci fare il saper comprendere il senso delle cose per capirsi per la Bibbia può essere saggio l'ultimo dei contadini e un imbecille il primo dei professori spesso è proprio così per cui la realtà è più dalla parte della sapienza biblica che non da quella della sapienza umana quindi il problema della sapienza non è sapere ma fare esperienza della vita sono libri poco teologici in apparenza che mettono anche in crisi tante teologie per questo non sono mai troppo studiati il libro di Giobbe in particolare ha un tema di fondo che attenzione contrariamente a quello che si sente dire non è il tema del dolore non è il problema del male è un problema più profondo è il problema di Dio questo è il grande problema del libro esiste questo Dio può esistere un Dio che permette il male il male c'è ma è l'occasione per parlare di Dio quindi il vero tema è il tema di Dio l'ho anche messo in fondo al testo del capitolo 3 è una citazione di un autore famosissimo che è stato 25 anni fa il mio maestro a Roma il padre Luis Alonso Che che è il famosissimo biblista spagnolo il suo commentario a Giobbe tuttora si legge in italiano lui lo dice molto bene lui ha preso l'esempio da un testo che circolava all'epoca dietro il libro di Giobbe ci sono tanti testi dell'Oriente antico simili a Giobbe che hanno un argomento in comune un innocente che soffre che sta male e che se la rifà con gli dèi e l'autore di Giobbe ha preso queste leggende e ci ha lavorato sopra facendo alla fine un testo dove il vero problema è Dio questo è il vero problema del libro Dio il male è solo l'occasione da cui il libro parte vi ricordate i primi due capitoli sono in prosa e presentano l'unica parte della storia che tutti conoscono la mia mamma che mi conosceva bene mi diceva sempre con te ci vuole la pazienza di Giobbe se c'è un un personaggio che nella Bibbia non ha pazienza questo è proprio Giobbe il problema è che la maggioranza della gente conosce solo i primi due capitoli tutte le disgrazie che Giobbe ha avuto le sopporta con cristiana sottolineo cristiana rassegnazione anche se Giobbe è stato scritto cinque secoli prima di Cristo e poi alla fine risponde il Signore ha dato il Signore ha tolto sia benedetto il nome del Signore nudo uscì dal seno di mia madre nudo vi ritornerò sì questo fino al capitolo 2 questo che abbiamo letto il capitolo 3 avete visto che il tono è appena appena un po' diverso il Giobbe paziente diventa il Giobbe ribelle come è strutturato questo libro giusto per averne un'idea ha una sua logica che il padre Alonso chiamava una logica drammatica quindi immaginate un dramma da fare sulla scena i primi due capitoli sono narrativi sono la premessa che racconta le disgrazie di Giobbe la sua prima apparente reazione di pazienza con questo dibattito con la moglie che lo invita a maledire Dio segue poi il capitolo 3 di cui parleremo adesso che è un monologo di Giobbe che rompe il silenzio carico d'attesa che si era creato dopo l'arrivo dei tre amici che vengono teoricamente a consolare Giobbe tutto il resto della prima parte del libro di cui parlerete nel prossimo incontro è il dialogo tra Giobbe e gli amici nove volte intervengono gli amici nove volte risponde Giobbe gli amici come vedrete difendono la tradizione se il vescovo non soffende difendono il sant'uffizio e per capirsi nei termini di un tempo difendono la sana dottrina e Giobbe è l'eretico di turno che attacca Dio la sorpresa sarà alla fine che interviene Dio per dire gli amici sono stupidi Giobbe ha capito tutto quindi c'è un rovesciamento completo di significato il capitolo 28 separa la prima dalla seconda parte è un inno alla inaccessibilità della sapienza dopo un altro intervento di Giobbe capitoli 29 30 e 31 tre monologhi di Giobbe poi arriva un quarto amico Elihu dal capitolo 32 al 37 un amico che non è soddisfatto dei tre amici precedenti questi tre amici precedenti sono come i cardinali che hanno scritto dubbia sulla moris letizia non sono stati abbastanza duri e allora arriva Gotti tedeschi che dice il papa eretico perché rincara la dose e lì è un po' così è uno che dice no Giobbe eretico lo devo dimostrare il suo argomento vedrete è molto semplice tu non hai ragione Dio è più grande degli uomini quindi zitto smetti di discutere Dio ha ragione tu hai torto che non è un grande conversare se voi a un amico gli dite bene ragioniamo io ho ragione tu hai torto adesso parliamone non lasci molto spazio al dialogo dal capitolo 38 sorprendentemente interviene Dio che dialoga con Giobbe lasciando da parte i tre più uno amici neanche li prende in considerazione e poi vedrete questo dialogo che in realtà è più un discorso due discorsi di Dio con Giobbe la risposta finale di Giobbe è il prologo che è un apparente lieto fine ma che in realtà è molto di più che un apparente lieto fine il poeta è bravo perché lascia in ogni caso i problemi in sospeso un'ultima cosa introduttiva il libro di Giobbe è un testo poetico per questo è difficile leggerlo non solo perché è un testo di 2500 anni fa io direi che Giobbe viene scritto tra il quinto e il quarto secolo avanti Cristo è difficile dire quando comunque dopo l'esilio e riflette il problema che si crea in Israele dopo l'esilio cioè appunto come mai soffriamo perché Dio ci fa soffrire così perché Dio ci ha mandato in esilio dov'è questo Dio che apparentemente ci ha fatto grandi promesse è un testo poetico dicevo e la poesia se mi si passa il paragone è come le barzellette non si può spiegare troppo se io vi racconto una barzelletta e voi non la capite io ve la spiego sì ma tanto non ridete più a quel punto è inutile che ve la spieghi così la poesia non ha bisogno di grosse spiegazioni è evocativa è fatta di simboli di immagini il problema ci diceva il padre Alonso non è leggere la Bibbia è leggere il problema perché oggi la gente non legge più men che meno le poesie e non leggendo le poesie non può capire la Bibbia specialmente nelle sue parti poetiche il che significa volete capire i salmi i testi poetici leggete poesie più ne leggete e più capirete le poesie meno ne leggete e meno capirete perché è un tipo di linguaggio a cui non siete più abituati cercate di razionalizzarlo e non ci capite niente e continuate a navigare intorno alle immagini poi trovate delle belle frasi come questa le palpebre dell'aurora o che sono le palpebre dell'aurora cioè è un'immagine poetica è chiaro che l'aurora non ha le palpebre ma nelle poesie sì quindi sono cose che non hanno bisogno di spiegazioni si colgono nella loro bellezza quindi le difficoltà di Giobbe tante volte sono in realtà difficoltà che nascono dalla nostra ignoranza di testi poetici e dal nostro non leggere la Bibbia con costanza leggetela rileggetela era il consiglio di Kierkegaard l'avete letto Giobbe rileggetela un'altra volta in un libro famoso La Ripetizione quando Kierkegaard che è stato da giovane a sentire le lezioni di Hegel e non l'ha convinto diventerà grande anti-hegeliano ritorna a Berlino dopo la crisi che ha avuto con la sua fidanzata Regina Olsen cercando di ritrovare le gioie della gioventù studentesca e non le trova trova ulteriori delusioni allora torna in Danimarca e scrive la ripetizione basata sull'esperienza di Giobbe quella è una delle sue grandi scoperte insieme alla prova di Abramo che aprono le porte a tutta la sua filosofia e a tutta la sua riflessione sulla fede come rischio come salto nel buio e Giobbe è stato uno dei suoi testi guida ma perché avendolo letto prima non avendolo capito l'ha riletto alla luce delle sue situazioni personali e questa volta il libro si è aperto in un modo diverso e qui si potrebbe anche ricordare il fatto che Giobbe è uno dei testi biblici forse per certi aspetti anche più dei Vangeli che ha avuto più riletture nella storia della letteratura della filosofia dell'arte della musica negli ultimi 2500 anni chi volesse questa storia basta che si compri il ormai vecchio commento del Ravasi Ravasi dedica 150 pagine alla storia della letteratura su Giobbe e si ferma all'84 per cui volendo ci sarebbe anche da scrivere gli ultimi 30 e passa anni quindi la storia è bella questo per introdurre un po' il libro poi chi fosse curioso io ho messo due pagine di bibliografia e mi sono limitato perché volendo le due pagine potevano diventare facilmente 20 e ho evitato con due tre eccezioni libri che non siano in italiano per cui se poi vi allargate la bibliografia diventa immane questi sono solo quelli diciamo più accessibili su tutti i campi sui quali è stato lavorato in relazione a Giobbe ce n'è per tutti i gusti così che uno che vuole approfondire sa perlomeno quali titoli andare a guardare detto questo veniamo al capitolo 3 che abbiamo appena letto così invece di introdurre ci fermiamo su un testo il capitolo 3 si apre con queste parole allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno è lo stesso Giobbe che nel capitolo precedente aveva detto il Signore ha dato il Signore ha tolto sia benedetto il nome del Signore se da Dio accettiamo il bene perché non dovremmo accettare anche il male arrivano gli amici che pensano di consolarlo ma tacciono per un lungo periodo di tempo questo silenzio è squarciato non dalle parole degli amici ma dalle parole dall'urlo potremmo dire di Giobbe gli amici vedremo sono quei classici consolatori che non sanno consolare parentesi interessante il più grande commento antico al libro di Giobbe è di Papa Ghergorio Magno sono 38 volumi una cosa allucinante come mole allucinante nel senso pensare a un uomo che ha messo vent'anni per scrivere un commentario così lo cominciò a scrivere che non era ancora Papa era legato pontificio a Costantinopoli e vedendo la mondanità della Chiesa da cui fu colpito negativamente nel suo commentario che finì quando ormai era Papa identifica gli amici di Giobbe con gli ecclesiastici che non sanno aver pietà della della sofferenza altrui ma condannano l'altro a partire dalle loro idee e chiude la sua arringa che bella forte pensando che poi a un Papa quando compila il commentario dun deum defendere nituntur offendunt mentre cercano di difendere Dio lo offendono è interessante la trasposizione in chiave ecclesiale degli amici di Giobbe che diventano gli ecclesiastici del suo tempo che in nome della legge condannano le persone ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale perché questo succede continuamente ancora nel mondo religioso la legge le idee che passano avanti sopra il bene delle persone e alla fine Dio dà ragione a Giobbe e torto agli amici dunque il silenzio è squarciato da questa maledizione di Giobbe è molto forte questo perché nella Bibbia maledire non lo si fa a cuor leggero maledire significa dichiarare che qualcuno è nel mondo della morte augurare che qualcuno entri nel mondo della morte esca dal mondo della vita la maledizione è una cosa molto dura Giobbe maledisce il suo giorno cioè il giorno della sua nascita un tipo di linguaggio che non si trova neanche nei salmi più duri salmi di lamento quando il salmista parla della sua malattia della sua disgrazia del suo peccato ma non arriva a maledire se stesso attraverso la maledizione del giorno della sua nascita la maledizione chiama in causa Dio tra l'altro quindi Giobbe indirettamente è come se se la rifacesse con Dio e poi vedremo neanche tanto indirettamente perché se sono nato è Lui che mi ha fatto nascere e quindi maledetto il giorno della mia nascita ma sottinteso ma chi mi ci ha portato a questo giorno del resto la moglie gli aveva appena detto benedici Dio e muori ma quel benedici in realtà è una delle più antiche correzioni rabbiniche i rabbini erano rimasti sconvolti di fronte a un testo che diceva maledici non si può maledire Dio e allora lo trasformano in benedici che però è una correzione del testo la moglie diceva a Giobbe maledici Dio e ucciditi muori significa ammazzati maledici Dio e ammazzati e Giobbe aveva detto parli da stolta ma ora lo fa quindi di fatto dar retta alla moglie a distanza di pochi versetti la sua vita è diventata insopportabile e inizia a maledire tutta la sua esistenza con la prima strofa i primi dieci versetti anzi dal versetto 3 al versetto 10 in cui il giorno della nascita descritto con la metafora della luce e delle tenebre diventa il giorno della mia disgrazia c'è dietro un'esperienza psicologica comune nel momento della depressione questo sarà capitato qualche volta anche a voi nasce un desiderio inconscio di autoannientamento autodistruzione non fossi mai nato accidenti a quel giorno in cui mi hanno messo al mondo succede anche a noi questa esperienza di depressione di dolore si esprime col rinnegamento della memoria positiva che ci viene dal passato e anche patologico per certi aspetti tutto ciò che è stato di bello lo nego e vedo solo il brutto e allora anche se ci fosse stato del bello lo maledico perché comunque la mia vita adesso non ha più alcun senso il linguaggio che qui Giobbe usa in questi versetti è quello della creazione cioè quello della genesi guardate per esempio il versetto 4 quel giorno divenga tenebra è il contrario di quanto dice Dio sia la luce e la luce fu e Dio separò la luce dalle tenebre e tant'è vero che Dio viene chiamato subito in causa quel giorno divenga tenebra non lo ricerchi Dio dall'alto né brilli mai su di esso la luce lo rivendichino la tenebra e l'ombra di morte quindi il giorno della mia nascita divenga come il giorno prima che Dio creasse il mondo tenebra e non luce il linguaggio è creazionale ma è all'incontrario ovvero nasce il sospetto in Giobbe che quando Dio ha creato il mondo dicendo sia la luce ha fatto qualcosa che non andava forse ha creato la luce ma per me ha creato solo tenebre e quindi c'è una sfasatura nella creazione beh ci sarà anche la luce non lo metto in dubbio come la candela nel quadro di De La Tour ma dice Giobbe questa luce io non la vedo e anzi quella luce con cui Dio ha creato il mondo se mai ci fosse che divenga tenebra perché la mia vita adesso non ha più senso una notte spaventosa che se la prenda il buio che non venga messa nei giorni del calendario e poi con una bella immagine quella notte sia sterile la notte di solito un uomo e una donna fanno all'amore fanno anche di giorno se vogliono ma insomma di notte di più e allora quella notte non lo facciano quella notte in cui sono stato concepito se fossero andati al cinema ora questo è una battuta stupida ma se fossero andati a fare una passeggiata quella notte divenga sterile non entri in essa suono di gioia una notte dunque di tristezza e addirittura Giobbe pur di rifarsela col giorno della sua nascita chiama in causa i maghi i maghi la Bibbia parla spesso di magia e non sempre in maniera negativa contrariamente a quello che noi pensiamo in questo caso Giobbe dice non potendo far altro come fa la gente anche noi facciamo così e quanta gente va dal mago di turno disperata perché non sa dove andare e quindi va dalla persona che secondo lei può darle qualche speranza e Giobbe evoca quelli che maledicono il giorno cioè i necromanti la magia nera quelli che evocano Leviathan Leviathan lo ritroverete alla fine è un mostro dell'oceano del mare che impropriamente le traduzioni della Bibbia a volte identificano col coccodrillo ma di per sé non è un coccodrillo è un mostro vi ricorderete il salmo che dice che Dio ha spezzato le teste di Leviathan sulle grandi acque immaginate un mostro a tante teste terribile come quelli del Signore degli Anelli per fare un esempio adatto per i vostri più giovani anche i meno giovani Dio è come Gandalf che col bastone frantuma la testa di Leviathan voi ridete ma nelle scuole capiscono più questo esempio che non il Leviathan a volte ci vogliono anche attualizzazioni di questo genere ma questi mostri terribili lui li evoca venissero questi mostri almeno si porterebbero via il mio giorno preferisco i mostri degli inferi piuttosto che la mia vita questo è terribile e a volte è così mi volgo al lato oscuro della forza per usare un altro linguaggio filmico pur di avere una soddisfazione in questa vita priva di senso Leviathan lo ritroverete alla fine con un messaggio importante il capitolo 41 vi farà vedere che Dio gioca con Leviathan come un bambino con la sua lucertola dunque Dio controlla queste potenze del male le vince le domina e fa capire a Giobbe che quel Leviathan che lui voleva evocare in realtà è già sotto il controllo di Dio ma ci vorranno 40 capitoli per arrivare a comprendere questo ci sarebbero poi altri elementi in questi versetti a parte le immagini poetiche che facevo notare prima che sono molto belle giocano su questo tema dell'oscurità contrapposta alla luce un'alba senza stelle quelle stelle che si vedono all'inizio dell'alba l'ultime che scompaiono prima che l'alba venga scompaiono anche quelle una luce che non viene mai perché perché non mi chiuse il varco del grembo materno e non nascose la miseria ai miei occhi notate che in questa frase manca il soggetto di chi si parla di Dio si parla che non è nominato è un qualcuno che mi ha fatto nascere e a cui chiedo perché perché anzi qui non è neanche un chiedere è un'affermazione poiché non mi chiuse quindi voglio la tenebra perché qualcuno mi ha fatto nascere e io non avrei voluto nella vita c'è solo miseria questo è un vocabolo che conosce bene anche il coelet amal miseria lavoro faticoso la mia vita è soltanto un lavoro faticoso Giobbe riprenderà questo vocabolo all'inizio del capitolo 7 in un testo famoso quando dirà che la vita dell'uomo è come quella di un mercenario di uno schiavo che aspetta l'ombra ma che l'ombra non trova la vita è soltanto una fatica una pena inutile e qui inizia la seconda strofa che si apre con un doppio perché perché non sono morto perché due ginocchia mi hanno accolto qui Giobbe prende lo stile dei salmi di lamento se voi siete familiari con i salmi questo tipo di linguaggio l'avete in mente io quando insegno i salmi in facoltà teologica dico sempre che i salmi non sono per persone troppo devote perché se leggete i salmi davvero sono tutt'altro che devoti perché Signore mi hai abbandonato fino a quando continuerai a dimenticarmi e così via le domande nei salmi sono tantissime ci sono anche le risposte ma prendete le domande Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato per dirne una una famosa il salmo interroga noi siamo troppo abituati alla fede vissuta come risposte provate a viverla come domanda e vedrete io prendevo in mano ora qui nel vostro nella vostra cartella la lettera pastorale del vostro vescovo e notavo come i capitoli di questa lettera iniziano tutti con una domanda per paura del Vangelo paura della fragilità paura della felicità a queste domande poi ci deve essere la risposta ma senza domanda la risposta non può arrivare e quindi le domande sono vitali tra l'altro mi diverto a scuola perché dico agli studenti universitari che lo studente bravo non è quello che dà le risposte giuste è quello che fa le domande giuste e questo è ancora più bravo perché dalla domanda si vede quanto hai capito e l'interesse in quello che stai chiedendo e queste sono domande forti perché non sono morto perché sono nato perché sono nato per vivere una vita così piena di sofferenze e senza senso era meglio se fossi morto allora avrei pace qui tra l'altro bisogna tenere presente una cosa che non è ovvia per molti di noi l'ebreo del V-IV secolo non credeva nell'aldilà a scanso di equivoci non dico cose strane dico cose ovvie per chiunque conosce la Bibbia fino al terzo secolo almeno non esiste la fede nell'aldilà nella Bibbia anche fino al secondo si potrebbe dire se avete in mente i salmi di nuovo vi ricorderete quel versetto che dice non i morti lodano il Signore ma noi viventi lodiamo il Signore i morti sono nello Sheol negli inferi non ci sono più sono un po' come le ombre del mondo greco né più né meno non vite refaim direbbe la Bibbia ombre persone che non hanno una loro consistenza e così Giobbe dice fossi morto almeno sarei in pace perché là nessuno ti dà fastidio è una non vita ma è una non vita è una sorta di limbo in cui non hai né gioia né dolore semplicemente una vita di ombre altrimenti questi testi un'ottica cristiana in cui si pensa alla vita eterna alla resurrezione avrebbero poco senso perché se sono morto da qualche parte sarò se sono all'inferno sto peggio se sono in paradiso sto meglio quindi in ogni caso la prospettiva della morte cambierebbe qui pensare a una vita oltre la quale la vita fisica non c'è più nulla addirittura come un aborto come un bambino non nato fossi morto almeno sarei sarei nella pace e soprattutto non sarei un prigioniero in questa vita notate l'immagine in cui si dice anche i prigionieri hanno pace non odono più la voce delle guardie il piccolo e il grande la sono uguali e lo schiavo è libero dai suoi padroni la vita è una schiavitù è una prigione l'unico modo per uscirne è la morte ora ecco un altro paradosso Giobbe chiama la morte dice era meglio se fossi morto appena nato ma mai per la testa gli passa l'idea del suicidio non appare un testo nel libro di Giobbe a parte la moglie che lo dice di fare Giobbe non dice mai ora mi ammazzo mentre nei testi egiziani e mesopotamici dell'epoca in cui si affrontano problemi analoghi capita che il sofferente dica beh non ho altra soluzione e dunque mi uccido questo per esempio avviene in un bel testo egiziano in cui il problema è analogo a quello di Giobbe un sofferente che si lamenta con se stesso con il suo ba la parte la parte immortale dell'uomo e alla fine dice guardate l'attualità di questo testo a chi parlerò oggi i fratelli sono cattivi gli amici di oggi non possono essere amati a chi parlerò oggi i cuori sono rapaci ognuno prende i beni del compagno a chi parlerò oggi la gentilezza è perita la violenza si abbatte su ognuno a chi parlerò oggi si è soddisfatti del male il bene è buttato a terra dovunque a chi parlerò oggi il criminale è considerato un amico il fratello è divenuto un nemico a chi parlerò oggi il male colpisce la terra non se ne vede la fine questo per evitare di diventare laudatore stemporis acti quelli che dicono una volta si che si stava bene questo testo è del 2000 avanti Cristo a 4500 anni e le cose non sono granché cambiate la soluzione mi uccido poi in realtà non si uccide se non non avrebbe scritto questo testo c'è anche il fatto che questi sono testi letterari evidentemente queste non sono le ultime lettere di Jacopo Ortis che non le ha scritte lui perché è un personaggio letterario se quest'uomo è un uomo reale beh alla fine ciò vuol dire che la soluzione non è mi uccido però lui dice lo faccio Giobbe non lo fa mai dunque si lamenta sulla vita ma non arriva mai a dire me la tolgo mi uccido casomai me la rifaccio con quel Dio che me l'ha data questo è un altro aspetto nella strofa finale Giobbe con un'altra serie di perché chiama in causa questa volta direttamente Dio in maniera retoricamente efficace perché dal perché del versetto 20 perché dare la luce a un infelice si arriva a nominare Dio soltanto alla fine del versetto 23 a un uomo la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte quindi il vero bersaglio di Giobbe perché hai dato la vita a qualcuno che preferisce la morte anzi che vorrebbe la morte e la morte non viene alla fine il bersaglio è questo Dio a cui che scusate questo Dio che ha sbarrato all'uomo la via da ogni parte la vita è una prigione con le sbarre ben serrate e queste sbarre me le ha messe Dio tenete presente che questi sono testi forti specialmente per quel genere di credenti che vivono la fede sempre come rose e fiori tanto Dio mi aiuta tanto Dio mi salva basta pregare 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 tutto si risolve non è vero non è affatto vero tanto non è vero che se no non c'era il libro di Giobbe chi sta male davvero si accorge che ci sono situazioni nella vita in cui non basta neanche la preghiera in cui esce fuori il lamento più disperato i santi veri lo sanno sono quelli che hanno passato notti oscure e litigi con Dio a volte infiniti non quelli che sorridono sempre e che alla fine sembrano sempre felici anche quando gli muore tutta la gente che gli sta dintorno Giobbe non è affatto felice e se la rifà con Dio e lo considera il responsabile di questa sua situazione passa dunque da un'apparente accettazione alla contestazione di Dio alla fine del poema sarete sorpresi perché questo Giobbe così tragicamente ribelle che arriverà a dire forse lo vedrete in un testo del capitolo 9 facendo il dialogo con gli amici di fronte al dolore degli innocenti Dio si mette a ridere si mette a ridere questo è Dio questo lo dice Giobbe tant'è che i commentatori antichi dicevano no qui Giobbe ce l'ha con Satana è troppo forte parlare di Dio così no? questo Giobbe si sentirà dire da Dio tu hai detto di me cose rette dove sta il trucco gli amici parlano di Dio sono bravissimi a parlare di Dio Giobbe parla ma con Dio questa è una differenza radicale e a Dio non piacciono quelli che parlano di Lui piacciono quelli che parlano con Lui magari anche litigandoci ma ci parlano faccia a faccia e hanno il coraggio di dirgli le cose davanti con tutto che non sempre si arriva alla fede Giobbe ci mette un po' per arrivare a scoprire Dio a proposito di quel brano che citavo Dio ride della sciagura degli innocenti c'è un altro brano nel capitolo 24 dalla città si alza il gemito dei feriti ma Dio non ascolta le loro preghiere non le ascolta questi stanno male e Dio non li ascolta se conoscete un'autrice contemporanea che si chiama Edith Brook un'autrice la cui mamma e la cui sorella furono uccise a Birkenau dal famigerato dottor Mengele durante gli esperimenti atroci che lui faceva sui detenuti a Birkenau lei ha scritto un libro Lettere alla madre famoso tra l'altro e lei racconta di quando Mengele passò a selezionare quegli ebrei che poi avrebbe ucciso in maniera atroce c'erano lei sua madre e sua sorella era piccola lei fu scartata e Mengele prese madre e sorella e lei scrive Edith Brook in quel preciso momento ho saputo che non esiste Dio e se Dio esistesse meglio per lui che non ci fosse perché altro non sarebbe che il Mengele celeste pensate confutatemi questo argomento se potete con la teoria perché con la teoria non ci riuscirete mai è il famoso dilemma di Epicuro che se vi ricordate Dio o vuole togliere il male o può togliere il male se vuole ma non può è impotente se può ma non vuole è cattivo nell'uno e nell'altro caso non è Dio ma se vuole e può allora perché c'è il male? il testo ci è riportato da un autore latino cristiano Lattanzio At cur illa mala Deus non tollit e perché non li toglie? e non basta rispondere filosoficamente come faceva Tommaso d'Aquino nella seconda questio della summa teologica tra parentesi Tommaso d'Aquino aveva ben chiaro che il problema non è il male è Dio il problema nella prima questio della summa Tommaso si chiede ma è possibile parlare di Dio? perché se non è possibile parlare di Dio è utile che io scriva duemila pagine di summa teologica e risponde sì è possibile parlare di Dio perché ne parla la Bibbia e la Bibbia come ne parla? in maniera sensibile allora si può conveniens est sacre scritture divina subsimilitudine corporalium tradere è conveniente alle sacre scritture che si trasmettano le cose divine sotto l'immagine di quelle corporali dunque si può parlare di Dio perché abbiamo la parola di Dio che parla il linguaggio sensibile umano e allora si può parlare di Dio in maniera umana seconda questio il problema del male videtur quod est malum immundo ergo Deus non est c'è il male nel mondo dunque non c'è Dio questo è Tommaso d'Aquino nella questio secunda e poi Tommaso risponde in realtà il male non esiste per cui non si può dire malum est perché il male è la privatio boni è il bene che non c'è però questo è un sotterfugio filosofico attenzione perché ditelo a chi sta male dice guarda che è il bene che non hai sì però io sto male capito ho un tumore dice malum est come se est quindi la privatio boni vale fino a un certo punto Giobbe capisce e se la rifà col diretto interessato Dio in persona vedrete che la risposta Dio la darà ma non sarà quella che Giobbe si aspetta e nemmeno quella che vi aspettate voi tant'è vero che alla fine del percorso uno dirà ma io mi aspettavo vi ricordate la prima lettura di ieri che è stato alla messa le mie vie non sono le vostre vie i miei pensieri non sono i vostri pensieri Dio trova sempre il modo di fregarci nel modo giusto del termine nel modo giusto del termine per finire questo poema si può leggere in tanti modi in chiave psicologica senza altro è il poema di un uomo depresso basta vedere come finisce tutto ciò che mi spaventa è venuto su di me non ho tranquillità non ho tregua non ho il riposo è venuto il tormento è quel tipo di persona che avete presente queste persone depresse totalmente buongiorno ma che buongiorno non lo sai che mi è successo oggi scusa scusa ti volevo solo salutare come stai ma me lo chiedi anche non lo vedi come sto quelle persone per le quali tutto è negativo tutto è male c'è senz'altro una componente psicologica ma sarebbe meschino ridurre Giobbe a un trattato di psicologia spicciola su cosa succede quando sei troppo depresso con tutto che allora queste cose non le studiavano in maniera razionale nemmeno si può fare di Giobbe un filosofo primo perché la Bibbia non è un testo filosofico e secondo perché questo non è un problema filosofico anche se poi lo può diventare è un problema umano ma più ancora è il problema di un uomo posto di fronte a un Dio che crede buono ma che si manifesta in ben altro modo per capirsi questo testo del capitolo 3 somiglia moltissimo a un altro testo che sicuramente conoscete le cosiddette confessioni di Geremia capitolo 20 del libro di Geremia maledetto il giorno in cui nacqui maledetto il giorno in cui fu detto a mio padre è nato un uomo quel testo famoso in cui Geremia poi dice c'era dentro di me un fuoco ardente mi hai mandato a parlare violenza oppressione non ne posso più è Geremia che si sfoga con Dio e gli chiede perché mi hai mandato ma alla fine perché sono nato dunque questo testo va letto in chiave teologica in senso profondo cioè come il lamento di un uomo di fronte a Dio un uomo che crede in Dio e che non si capacita di come quel Dio in cui crede possa comportarsi così con lui altrimenti il testo diventa un esercizio accademico di scuola che non ha molto da dire per capire questo testo bisogna mettersi nei panni di Giobbe o meglio essere nei panni di Giobbe una persona che soffre e che si che interagisce con Dio avendo il coraggio di lamentarsi davanti a lui ma davanti a lui questa è la cosa straordinaria Giobbe non sta accusando un Dio astratto sta parlando a quel Dio che ha di fronte perché e gli lo chiede a lui come nei salmi quindi la grandezza di questo libro è il confrontarsi con un Dio in cui si vorrebbe credere ma non si riesce a farlo perché la situazione della vita mi porta in un'altra direzione eppure tengo duro e piuttosto di abbandonare questo Dio continuo a litigarci questo tra l'altro è molto ebraico e se voi aveste uno spirito un po' più ebraico che cristiano non avreste grossi problemi l'ebraismo è pieno di figure una famosa è quella di quell'ebreo che chiama Dio in giudizio al tribunale rabbinico e gli dice guarda nella Bibbia c'è scritto così che se uno osserva le tue leggi lo devi ricompensare in questo e quest'altro modo e io sto così male e tu sei un mentitore dice chiama Dio in giudizio il tribunale che all'inizio si dichiara incompetente e poi dà ragione a questo povero uomo dice sì è vero Dio deve intervenire chiediamo scusa all'onnipotente all'eterno ma siccome lui stesso ha scritto queste cose è tenuto a osservarle per favore grazie questa è un po' la mentalità che sta dietro a testi come queste quindi devota da un altro punto di vista di chi sa davvero confrontarsi con il negativo e prendere Dio sul serio chiedendoli perché e ci fermiamo al perché perché altrimenti mi tocca poi parlare di tutto il resto del libro e chi viene dopo non ha più sorprese da riservarvi ci sarebbero anche tutti gli argomenti dei tre amici che sono vedrete molto interessanti al riguardo per adesso ci fermiamo a questi perché l'ora è quella giusta e quindi qui mi fermo grazie a tutti grazie Don Luca grazie davvero adesso abbiamo qualche minuto di tempo dieci minuti per qualche eventuale domanda da parte vostra chi ha piacere e ha scritto qualcosa può metterlo nel cestino se qualcuno vuole fare una domanda direttamente al microfono può venire qui buonasera scusate ma io ho letto i primi due capitoli di questo libro di Giobbe sono rimasto un po' interdetto prima di tutto formo la prima domanda perché il primo capitolo e il secondo hanno la stessa la stessa prosa la stessa scrittura non capisco un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi davanti al Signore capitolo 2 stessa identica scena non ho capito perché e poi mi mi fa specie che quando c'è questo dialogo tra Satana e Dio non riesco a comprenderlo perché dice il Signore disse Satana Satana cioè da dove vieni Satana rispose Signore da un giro sulla terra che ho percorsa il Signore disse Satana hai posto attenzione mio servo Giobbe nessuno è come lui sulla terra uomo integro eretto teme Dio ed alieno dal male Satana rispose al Signore e disse forse che Giobbe teme Dio perché per nulla non l'hai riempito di tutti i beni che c'ha lui parla di una siepe intorno a lui come protezione e tutte le ricchezze e allora il Signore gli dice vai pure giù manda tutte le malignità che vuoi però non farlo morire ecco io sono rimasto un po' intervento da questo dialogo tra Satana e Dio facciamo un po' di ah ce n'è un'altra allora le raccogliamo nel libro di Giobbe c'è una presenza un po' occulta ovvero il lettore quale ruolo ha ruolo di protagonista di giudice di testimone di ascoltatore o di compagno di viaggio questa non è una domanda ma è un ringraziamento grazie è quello che avrei voluto sentire meno male allora la prima domanda è una domanda molto comprensibile perché il prologo ha intrigato sempre i lettori di Giobbe perché è molto diverso dal resto del libro l'ho anche accennato prima tra il capitolo 2 e il 3 c'è una frattura evidente anche solo per lo stile i primi due capitoli sono in prosa dal capitolo 3 al 42 in poesia e poi si riattacca con la prosa proprio alla fine cosa ha fatto l'autore l'autore aveva davanti un racconto su Giobbe che probabilmente circolava in maniera indipendente simile a quelli dei vari Giobbe mesopotamici o egiziani un racconto molto semplice Giobbe uomo pio religioso subisce tante disgrazie ma non si scompone ringrazia il Signore e Dio cosa fa gli restituisce sette volte tanto ma l'autore del libro ha detto questa storia non mi soddisfa un Giobbe così paziente non è umano anche perché pensateci bene a Giobbe muoiono quattro figli ma Dio poi gliene da altri sì ma i figli non sono fustini del detersivo vuole due fustini che gliene in cambio di uno e se Dio vi dicesse guarda questi due figlioli ti sono venuti male aspetta te li fa morire te ne do un altro altri quattro però vedrai come sono questi altri è chiaro che uno rimarrebbe perlomeno sconvolto e così lo era l'autore del libro che ha spezzato il racconto in due e nel mezzo ci ha inserito 40 capitoli di polemiche tra Giobbe gli amici e Dio perché non era soddisfatto di questo per cui il prologo crea volutamente una falsa attesa che il resto del libro poi mette in discussione voluta è la cosa serve proprio per creare una una impressione nel lettore che poi il resto del libro cerca di mettere in crisi quindi è voluto il problema dei primi due capitoli e tuttavia i primi due capitoli sono fondamentali perché beh ci sarebbe da spiegare tante cose intanto sono costruiti in maniera molto scenica sono sei scene la prima e la terza si svolgono in cielo la seconda e la quarta si svolgono in terra la quinta e la sesta sono le risposte di Giobbe a questi avvenimenti quindi sono due dittici contrapposti un po' come a teatro sono capitoli composti scenograficamente vanno letti non come storia ma come dramma se uno li legge come storia reale non ci capisce più niente questo immaginate vedere una una scena a teatro non vi chiedete se davvero è avvenuto oppure no quando vedete l'amleto vi chiedete cosa significa quello che sto vedendo quindi il problema è diverso e una una piccola nota questo satana attenzione non è il diavolo come noi siamo tentati a pensare perché ascoltiamo certe radio cattoliche è tutta opera di satana e quindi c'è satana anche quando non c'è ma non è quel satana lì non discuto su quel satana ne dico che quello di Giobbe non è quel satana lì è una figura angelica che ha il compito di ispezionare sulla terra per vedere se gli uomini si comportano bene oppure no siamo in un contesto mitico evidentemente non fate una traduzione teologica di queste cose questo è un altro errore che noi facciamo la Bibbia usa un linguaggio di immagini sarebbe come continuare a dire come mai c'erano due uomini soli Adam e Eva e dove stava il serpente se il frutto era una mela oppure no siamo di fronte a un linguaggio di carattere mitico mitico non vuol dire che non esiste vuol dire che usa simboli è un altro punto per non fare errori tra parentesi queste sono cose che già diceva Giovanni Paolo II nelle sue remote catechesi del 1979 me le ricordo perché era l'anno che entravo in seminario e già lo dice come il Papa dice queste cose sono cose che si sapevano già da 50 anni ma sentirle dire dal Papa sembravano nuove sono cose ormai ampiamente digerite e capite quel Satana lì non è il diavolo è una figura che serve per avere qualcuno nel testo che faccia muovere tutta la questione non può essere Dio che chiama in causa Giobbe è un terzo personaggio che mette nell'orecchio di Dio una pulce ma questo Giobbe ecco il versetto 9 che è stato letto prima che è importante teme Dio per nulla cioè la sua fede è una fede disinteressata o Giobbe teme Dio cioè crede in Dio perché ne ha qualche tornaconto questo è il vero problema e Dio dice scommettiamo che Giobbe crede davvero in me il male diventa l'occasione per vedere se Giobbe crede davvero in me perché di fronte alla sofferenza non puoi più barare il racconto mette in luce questo problema la fede di Giobbe di nuovo è il problema di Dio è gratuita o è interessata si fa presto a dire sono credente quando va tutto bene provate a esserlo quando va tutto male questo è il senso del prologo che gioca su vari piani per cui è un testo in realtà molto più ricco di quanto non si pensi quindi grazie per aver tirato fuori questo argomento perché ho visto che poi non lo farete i primi due capitoli è interessante l'altra domanda la presenza occulta del lettore beh certo in tutta la Bibbia c'è la presenza occulta e neanche tanto del lettore la Bibbia è stata scritta perché qualcuno la legga dovrei dire perché qualcuno la ascolti perché nell'antichità non si leggevano i libri si ascoltavano i libri nel senso che si leggevano a voce alta lo leggeva uno e gli altri lo ascoltavano quindi questo è un altro discorso diciamo il lettore diciamo l'ascoltatore la Bibbia presuppone il ruolo attivo di chi ascolta continuamente anche attraverso meccanismi apparentemente banali quando per esempio trovate ed ecco quella notte sia sterile questo pomeriggio ero sembra che abbia preso il razzo ma qualche ora fa ero a Parma all'università statale a fare una conferenza sulla traduzione della Bibbia per quello ho la testa ancora un po' da resettare su un altro argomento e c'erano altri professori linguisti dell'università di Parma del dipartimento di linguistica che studiavano una cosa che se ve la dico così le particelle deittiche dei testi particella deittica vuol dire ecco vedi guarda è quell'indicatore del testo che chiama in causa il lettore e ti dice attento sto parlando a te non sto parlando allora sto parlando al lettore che ascolta che legge questa storia ci sono anche altri mezzi vi ricordate come scriveva il Manzoni i miei 24 lettori sapranno i suoi lettori ideali e quindi il lettore è presupposto dal testo di Giobbe il padre Alonso ci diceva che il quarto amico Elihu è un po' come se uno del pubblico si alzasse e dicesse tutto quello che è stato detto finora dai tre amici e da Giobbe non mi torna adesso vi dico io cosa ne penso ed ecco l'intervento di un esterno su cui poi Giobbe ritorna quindi il lettore ovvero l'ascoltatore ha un ruolo fondamentale in questa domanda si diceva addirittura compagno di viaggio questa è una bella definizione ognuno di noi diventa compagno di viaggio del testo biblico nel senso che non lo recepisce in maniera passiva ma in maniera attiva in questo noi cattolici siamo in arretrato perché troppo catechismo e troppa poca Bibbia e il catechismo ci ha abituato alle domande e alle risposte che sono sempre passive perché le risposte le impari a memoria e rispondi pari pari la Bibbia ti invita all'attività quindi personalmente non concepisco altra catechesi se non con la Bibbia in mano ma questa è un'idea che avevano i padri qualcuno si ricorderà l'adagio dei padri scrittura crescit cum legente la scrittura cresce con colui che la legge per cui da sola non serve nel momento in cui la leggi se volete diventare tecnici in fondo è una esperienza comune dell'ermeneutica dei testi è la scienza dell'interpretazione dei testi ci sono tre elementi da tenere presente in qualunque testo voi leggiate basta che leggiate Umberto Eco che non ha nessun sospetto di essere un autore credente per cui siete sicuri che almeno sul piano dell'ermeneutica è corretto il testo scritto l'autore che ha scritto il testo e il lettore che lo interpreta noi spesso ci fermiamo al testo manco l'autore che nella Bibbia sono due Dio e l'uomo per cui c'è sempre da fare un lavoro su due piani diversi e poi c'è il lettore che non è semplicemente il recettore ma è l'interprete e in questo gioco di tre elementi che si gioca il testo per cui in Giobbe c'è il libro l'autore che l'ha scritto che nella fattispecie per chi non crede è un ebreo del quinto secolo per chi crede c'è anche di mezzo il padre eterno quindi sono in realtà due autori in uno e poi c'è il lettore che porta del suo con tutta la sua soggettività Umberto Eco diceva fino a un certo punto perché il testo ha i suoi diritti e non puoi far dire al testo quello che il testo non intendeva dire quindi il lettore ha dei limiti però nello spazio di quei limiti può dare la sua lettura personale in questi tre elementi si gioca il libro di Giobbe grazie Don Luca facciamo un bel applauso a Don Luca perché l'applauso è veramente sentito perché ci hai resi davvero compagni di viaggio di Giobbe questa sera un viaggio che continua nei prossimi giorni e domani sera con Laila Luci affronteremo appunto le due sapienze a confronto quella degli amici e quella di Giobbe buona serata e buonanotte a tutti grazie integro eretto teme Dio ed allievo dal male Satana rispose al Signore e disse forse che Giobbe teme Dio perché per nulla non l'hai riempito di tutti i beni che c'ha lui parla di una siepe intorno a lui come protezione e tutte le ricchezze e allora il Signore gli dice vai pure giù manda tutte le malignità che vuoi però non farlo morire ecco io sono rimasto un po' intervento da questo dialogo tra Satana e Dio facciamo un po' di direi che possiamo iniziare a rispondere ah ce n'è un'altra vediamo allora io così ecco allora le raccogliamo nel libro di Giobbe c'è una presenza un po' occulta ovvero il lettore quale ruolo ha ruolo di protagonista di giudice di testimone di ascoltatore o di compagno di viaggio questa non è una domanda ma è un ringraziamento grazie è quello che avrei voluto sentire meno male allora la prima domanda è una domanda molto comprensibile perché il prologo ha intrigato sempre i lettori di Giobbe perché è molto diverso dal resto del libro l'ho anche accennato prima tra il capitolo 2 e il 3 c'è una frattura evidente anche solo per lo stile i primi due capitoli sono in prosa dal capitolo 3 al 42 in poesia e poi si riattacca con la prosa proprio alla fine cosa ha fatto l'autore l'autore aveva davanti un racconto su Giobbe che probabilmente circolava in maniera indipendente simile a quelli dei vari Giobbe mesopotamici o egiziani un racconto molto semplice Giobbe uomo pio religioso subisce tante disgrazie ma non si scompone ringrazia il Signore e Dio cosa fa gli restituisce sette volte tanto ma l'autore del libro ha detto questa storia non mi soddisfa un Giobbe così paziente non è umano anche perché pensateci bene a Giobbe muoiono quattro figli ma Dio poi gliene da altri sì ma i figli non sono fustini del detersivo vuole due fustini che gliene in cambio di uno e se Dio vi dicesse guarda questi due figlioli ti sono venuti male aspetta te li fa morire te ne do un altro altri quattro però vedrai come sono quest'altri è chiaro che uno rimarrebbe perlomeno sconvolto e così lo era l'autore del libro che ha spezzato il racconto in due e nel mezzo ci ha inserito 40 capitoli di polemiche tra Giobbe gli amici e Dio perché non era soddisfatto di questo per cui il prologo crea volutamente una falsa attesa che il resto del libro poi mette in discussione voluta è la cosa serve proprio per creare una una impressione nel lettore che poi il resto del libro cerca di mettere in crisi quindi è voluto il problema dei primi due capitoli e tuttavia i primi due capitoli sono fondamentali perché beh ci sarebbe da spiegare tante cose intanto sono costruiti in maniera molto scenica sono sei scene la prima e la terza si svolgono in cielo la seconda e la quarta si svolgono in terra la quinta e la sesta sono le risposte di Giobbe a questi avvenimenti quindi sono due dittici contrapposti un po' come a teatro sono capitoli composti scenograficamente vanno letti non come storia ma come dramma se uno li legge come storia reale non ci capisce più niente questo immaginate vedere una una scena a teatro non vi chiedete se davvero è avvenuto oppure no quando vedete l'amleto vi chiedete cosa significa quello che sto vedendo il problema è diverso e una una piccola nota questo satana attenzione non è il diavolo è come noi siamo tentati a pensare perché ascoltiamo certe radio cattoliche è tutta opera di satana e quindi c'è satana anche quando non c'è ma non è quel satana lì non discuto su quel satana ne dico che quello di Giobbe non è quel satana lì è una figura angelica che ha il compito di ispezionare sulla terra per vedere se gli uomini si comportano bene oppure no siamo in un contesto mitico evidentemente non fate una traduzione teologica di queste cose questo è un altro errore che noi facciamo la Bibbia usa un linguaggio di immagini sarebbe come continuare a dire come mai c'erano due uomini soli Adam e Eva e dove stava il serpente se il frutto era una mela oppure no siamo di fronte a un linguaggio di carattere mitico mitico non vuol dire che non esiste vuol dire che usa simboli è un altro punto per non fare errori tra parentesi queste sono cose che già diceva Giovanni Paolo II nelle sue remote catechesi del 1979 me le ricordo perché era l'anno che entravo in seminario e già lo dice come il Papa dice queste cose sono cose che si sapevano già da 50 anni ma sentirle dire dal Papa sembravano nuove sono cose ormai ampiamente digerite e capite quel Satana lì non è il diavolo è una figura che serve per avere qualcuno nel testo che faccia muovere tutta la questione non può essere Dio che chiama in causa Giobbe è un terzo personaggio che mette nell'orecchio di Dio una pulce ma questo Giobbe ecco il versetto 9 che è stato letto prima che è importante teme Dio per nulla cioè la sua fede è una fede disinteressata o Giobbe teme Dio cioè crede in Dio perché ne ha qualche tornaconto questo è il vero problema e Dio dice scommettiamo che Giobbe crede davvero in me e il male diventa l'occasione per vedere se Giobbe crede davvero in me perché di fronte alla sofferenza non puoi più barare il racconto mette in luce questo problema la fede di Giobbe di nuovo il problema di Dio è gratuita o è interessata si fa presto a dire sono credente quando va tutto bene provate a esserlo quando va tutto male questo è il senso del prologo che gioca su vari piani per cui è un testo in realtà molto più ricco di quanto non si pensi quindi grazie per aver tirato fuori questo argomento perché ho visto che poi non lo farete i primi due capitoli è interessante l'altra domanda la presenza occulta del lettore beh certo in tutta la Bibbia c'è la presenza occulta e neanche tanto del lettore la Bibbia è stata scritta perché qualcuno la legga dovrei dire perché qualcuno la ascolti perché nell'antichità non si leggevano i libri si ascoltavano i libri nel senso che si leggevano a voce alta lo leggeva uno e gli altri lo ascoltavano quindi questo è un altro discorso diciamo il lettore diciamo l'ascoltatore la Bibbia presuppone il ruolo attivo di chi ascolta continuamente anche attraverso meccanismi apparentemente banali quando per esempio trovate ed ecco quella notte sia sterile questo pomeriggio ero sembra sembra che abbia preso il razzo ma qualche ora fa ero a Parma all'università statale a fare una conferenza sulla traduzione della Bibbia per quello ho la testa ancora un po' da resettare su un altro argomento e c'erano altri professori linguisti dell'università di Parma del dipartimento di linguistica che studiavano una cosa che se ve la dico così le particelle deittiche dei testi particella deittica vuol dire ecco vedi guarda è quell'indicatore del testo che chiama in causa il lettore e ti dice attento sto parlando a te non sto parlando allora sto parlando al lettore che ascolta che legge questa storia ci sono anche altri mezzi vi ricordate come scriveva il Manzoni i miei 24 lettori sapranno i suoi lettori ideali e quindi il lettore è presupposto dal testo di Giobbe il padre Alonso ci diceva che il quarto amico Eliù è un po' come se uno del pubblico si alzasse e dicesse tutto quello che è stato detto finora dai tre amici e da Giobbe non mi torna adesso vi dico io cosa ne penso ed ecco l'intervento di un esterno su cui poi Giobbe ritorna quindi il lettore ovvero l'ascoltatore ha un ruolo fondamentale in questa domanda si diceva addirittura compagno di viaggio questa è una bella definizione ognuno di noi diventa compagno di viaggio del testo biblico nel senso che non lo recepisce in maniera passiva ma in maniera attiva in questo noi cattolici siamo in arretrato perché troppo catechismo e troppa poca Bibbia e il catechismo ci ha abituato alle domande e alle risposte che sono sempre passive perché le risposte le impari a memoria e rispondi pari pari la Bibbia ti invita all'attività quindi personalmente non concepisco altra catechesi se non con la Bibbia in mano ma questa è un'idea che avevano i padri qualcuno si ricorderà l'adagio dei padri scrittura crescit cum leggente la scrittura cresce con colui che la legge per cui da sola non serve nel momento in cui la leggi se volete diventare tecnici in fondo è una esperienza comune dell'ermeneutica dei testi è la scienza dell'interpretazione dei testi ci sono tre elementi da tenere presente in qualunque testo voi leggiate basta che leggiate Umberto Eco che non ha nessun sospetto di essere un autore credente per cui siete sicuri che almeno sul piano dell'ermeneutica è corretto il testo scritto l'autore che ha scritto il testo e il lettore che lo interpreta noi spesso ci fermiamo al testo manco l'autore che nella Bibbia sono due Dio e l'uomo per cui c'è sempre da fare un lavoro su due piani diversi e poi c'è il lettore che non è semplicemente il recettore ma è l'interprete e in questo gioco di tre elementi che si gioca il testo per cui in Giobbe c'è il libro l'autore che l'ha scritto che nella fattispecie per chi non crede è un ebreo del quinto secolo per chi crede c'è anche di mezzo il padre eterno quindi sono in realtà due autori in uno e poi c'è il lettore che porta del suo con tutta la sua soggettività Umberto Eco diceva fino a un certo punto perché il testo ha i suoi diritti e non puoi far dire al testo quello che il testo non intendeva dire quindi il lettore ha dei limiti però nello spazio di quei limiti può dare la sua lettura personale in questi tre elementi si gioca il libro di Giobbe grazie Don Luca facciamo un bell'applauso a Don Luca che l'applauso è veramente sentito perché ci hai resi davvero compagni di viaggio di Giobbe questa sera un viaggio che continua nei prossimi giorni e domani sera con Laila Luci affronteremo appunto le due sapienze a confronto quella degli amici e quella di Giobbe buona serata e buonanotte a tutti grazie grazie e adesso il signore disse Satana da dove vieni Satana rispose Signore da un giro sulla terra che ho percorsa il signore disse Satana hai posto attenzione mio servo Giobbe nessuno è come lui sulla terra uomo integro eretto teme Dio ed allievo dal male Satana rispose al signore e disse forse che Giobbe teme Dio perché per nulla non l'hai riempito di tutti i beni che c'ha lui parla di una siepe intorno a lui come protezione e tutte le ricchezze e allora il signore gli dice vai pure giù manda tutte le malignità che vuoi però non farlo morire ecco io sono rimasto un po' intervento da questo dialogo tra Satana e Dio facciamo un po' di direi che possiamo iniziare a rispondere ah ce n'è un'altra vediamo allora la raccogliamo nel libro di Giobbe c'è una presenza un po' occulta ovvero il lettore quale ruolo ha ruolo di protagonista di giudice di testimone di ascoltatore o di compagno di viaggio questa non è una domanda ma è un ringraziamento grazie è quello che avrei voluto sentire meno male allora la prima domanda è una domanda molto comprensibile perché il prologo ha intrigato sempre i lettori di Giobbe perché è molto diverso dal resto del libro l'ho anche accennato prima tra il capitolo 2 e il 3 c'è una frattura evidente anche solo per lo stile i primi due capitoli sono in prosa dal capitolo 3 al 42 in poesia e poi si riattacca con la prosa proprio alla fine cosa ha fatto l'autore l'autore aveva davanti un racconto su Giobbe che probabilmente circolava in maniera indipendente simile a quelli dei vari Giobbe mesopotamici o egiziani un racconto molto semplice Giobbe uomo pio religioso subisce tante disgrazie ma non si scompone ringrazia il Signore e Dio cosa fa gli restituisce sette volte tanto ma l'autore del libro ha detto questa storia non mi soddisfa un Giobbe così paziente non è umano anche perché pensateci bene a Giobbe muoiono quattro figli ma Dio poi gliene da altri sì ma i figli non sono fustini del detersivo vuole due fustini che gliene in cambio di uno e se Dio vi dicesse guarda questi due figlioli ti sono venuti male aspetta te li fa morire te ne do un altro altri quattro però vedrai come sono quest'altri è chiaro che uno rimarrebbe perlomeno sconvolto e così lo era l'autore del libro che ha spezzato il racconto in due e nel mezzo ci ha inserito 40 capitoli di polemiche tra Giobbe gli amici e Dio perché non era soddisfatto di questo per cui il prologo crea volutamente una falsa attesa che il resto del libro poi mette in discussione voluta è la cosa serve proprio per creare una una impressione nel lettore che poi il resto del libro cerca di mettere in crisi quindi è voluto il problema dei primi due capitoli e tuttavia i primi due capitoli sono fondamentali perché beh ci sarebbe da spiegare tante cose intanto sono costruiti in maniera molto scenica sono sei scene la prima e la terza si svolgono in cielo la seconda e la quarta si svolgono in terra la quinta e la sesta sono le risposte di Giobbe a questi avvenimenti quindi sono due dittici contrapposti un po' come a teatro sono capitoli composti scenograficamente vanno letti non come storia ma come dramma se uno li legge come storia reale non ci capisce più niente questo immaginate vedere una una scena a teatro non vi chiedete se davvero è avvenuto oppure no quando vedete l'amleto vi chiedete cosa significa quello che sto vedendo quindi il problema è diverso e una una piccola nota questo satana attenzione non è il diavolo è come noi siamo tentati a pensare perché ascoltiamo certe radio cattoliche è tutta opera di satana e quindi c'è satana anche quando non c'è ma non è quel satana lì non discuto su quel satana ne dico che quello di Giobbe non è quel satana lì è una figura angelica che ha il compito di ispezionare sulla terra per vedere se gli uomini si comportano bene oppure no siamo in un contesto mitico evidentemente non fate una traduzione teologica di queste cose questo è un altro errore che noi facciamo la Bibbia usa un linguaggio di immagini sarebbe come continuare a dire come mai c'erano due uomini soli Adama ed Eva e dove stava il serpente se il frutto era una mela oppure no siamo di fronte a un linguaggio di carattere mitico mitico non vuol dire che non esiste vuol dire che usa simboli è un altro punto per non fare errori tra parentesi queste sono cose che già diceva Giovanni Paolo II nelle sue remote catechesi del 1979 me le ricordo perché era l'anno che entravo in seminario e già lo dice come il Papa diceva queste cose sono cose che si sapevano già da 50 anni ma sentirle dire dal Papa sembravano nuove sono cose ormai ampiamente digerite e capite quel Satana lì non è il diavolo è una figura che serve per avere qualcuno nel testo che faccia muovere tutta la questione non può essere Dio che chiama in causa Giobbe è un terzo personaggio che mette nell'orecchio di Dio una pulce ma questo Giobbe ecco il versetto 9 che è stato letto prima che è importante teme Dio per nulla cioè la sua fede è una fede disinteressata o Giobbe teme Dio cioè crede in Dio perché ne ha qualche tornaconto questo è il vero problema e Dio dice scommettiamo che Giobbe crede davvero in me e il male diventa l'occasione per vedere se Giobbe crede davvero in me perché di fronte alla sofferenza non puoi più barare il racconto mette in luce questo problema la fede di Giobbe di nuovo il problema di Dio è gratuita o è interessata si fa presto a dire sono credente quando va tutto bene provate a esserlo quando va tutto male questo è il senso del prologo che gioca su vari piani per cui è un testo in realtà molto più ricco di quanto non si pensi quindi grazie per aver tirato fuori in questo argomento perché ho visto che poi non lo farete i primi due capitoli è interessante l'altra domanda la presenza occulta del lettore beh certo in tutta la Bibbia c'è la presenza occulta e neanche tanto del lettore la Bibbia è stata scritta perché qualcuno la legga dovrei dire perché qualcuno la ascolti perché nell'antichità non si leggevano i libri si ascoltavano i libri nel senso che si leggevano a voce alta lo leggeva uno e gli altri lo ascoltavano quindi questo è un altro discorso diciamo il lettore diciamo l'ascoltatore la Bibbia presuppone il ruolo attivo di chi ascolta continuamente anche attraverso meccanismi apparentemente banali quando per esempio trovate ed ecco quella notte sia sterile questo pomeriggio ero sembra sembra che abbia preso il razzo ma qualche ora fa ero a Parma all'università statale a fare una conferenza sulla traduzione della Bibbia per quello ho la testa ancora un po' da resettare su un altro argomento e c'erano altri professori linguisti dell'università di Parma del dipartimento di linguistica che studiavano una cosa che se ve la dico così le particelle deittiche dei testi particella deittica vuol dire ecco vedi guarda è quell'indicatore del testo che chiama in causa il lettore e ti dice attento sto parlando a te non sto parlando allora sto parlando al lettore che ascolta che legge questa storia ci sono anche altri mezzi vi ricordate come scriveva il Manzoni i miei 24 lettori sapranno i suoi lettori ideali e quindi il lettore è presupposto dal testo di Giobbe il padre Alonso ci diceva che il quarto amico Eliù è un po' come se uno del pubblico si alzasse e dicesse tutto quello che è stato detto finora dai tre amici e da Giobbe non mi torna adesso vi dico io cosa ne penso ed ecco l'intervento di un esterno su cui poi Giobbe ritorna quindi il lettore ovvero l'ascoltatore ha un ruolo fondamentale in questa domanda si diceva addirittura compagno di viaggio questa è una bella definizione ognuno di noi diventa compagno di viaggio del testo biblico nel senso che non lo recepisce in maniera passiva ma in maniera attiva in questo noi cattolici siamo in arretrato perché troppo catechismo e troppa poca Bibbia e il catechismo ci ha abituato alle domande e alle risposte che sono sempre passive perché le risposte le impari a memoria e rispondi pari pari la Bibbia ti invita all'attività quindi personalmente non concepisco altra catechesi se non con la Bibbia in mano ma questa è un'idea che avevano i padri qualcuno si ricorderà l'adagio dei padri scrittura crescit cum legente la scrittura cresce con colui che la legge per cui da sola non serve nel momento in cui la leggi se volete diventare tecnici in fondo è una esperienza comune dell'ermeneutica dei testi è la scienza dell'interpretazione dei testi ci sono tre elementi da tenere presente in qualunque testo voi leggiate basta che leggiate Umberto Eco che non ha nessun sospetto di essere un autore credente per cui siete sicuri che almeno sul piano dell'ermeneutica è corretto il testo scritto l'autore che ha scritto il testo e il lettore che lo interpreta noi spesso ci fermiamo al testo manco l'autore che nella Bibbia sono due Dio e l'uomo per cui c'è sempre da fare un lavoro su due piani diversi e poi c'è il lettore che non è semplicemente il recettore ma è l'interprete e in questo gioco di tre elementi che si gioca il testo per cui in Giobbe c'è il libro l'autore che l'ha scritto che nell'ha fatti specie per chi non crede è un ebreo del quinto secolo per chi crede c'è anche di mezzo il padre eterno quindi sono in realtà due autori in uno e poi c'è il lettore che porta del suo con tutta la sua soggettività Umberto Eco diceva fino a un certo punto perché il testo ha i suoi diritti e non puoi far dire al testo quello che il testo non intendeva dire quindi il lettore ha dei limiti però nello spazio di quei limiti può dare la sua lettura personale in questi tre elementi si gioca il libro di Giobbe grazie Don Luca facciamo un bel applauso a Don Luca perché l'applauso è veramente sentito perché ci hai resi davvero compagni di viaggio di Giobbe questa sera un viaggio che continua nei prossimi giorni e domani sera con Laila Luci affronteremo appunto le due sapienze a confronto quella degli amici e quella di Giobbe buona serata e buonanotte a tutti